Ciao ragazzi, come sei? Mi chiamo Luca e questa è la mia cucina, benvenuti! Oggi stiamo preparando una ricetta italiana classica Spaghetti, Cacio e Pepe Ma prima di iniziare, iscriviti al mio canale se non avete già fatto questo Grazie molto! Aggiungere i pepe nero se non avete morta e pestle potete usare un piatto Aggiungere un po' di salto in un po' di acqua di acqua Aggiungere la pasta per 3 minuti o meno che è indicato nel packaging aggiungere il pepe nero Aggiungere il pepe nero in una panna e mettere il piatto per un po' di minuto a un po' di acqua Aggiungere un po' di acqua di acqua Aggiungere un po' di acqua di acqua al pecorino e mixare Aggiungere più acqua fino a che abbia una pasta di pecorino Aggiungere il pecorino senza il pepe che sia toccato per qualche minuto aggiungere un po' di acqua di acqua e mettere in acqua fino a che la pasta è pronta aggiungere la pasta alla pancia e mixare bene aggiungere acqua di acqua fino a che la pasta è pronta Quando la pasta è pronta, prendete la pannella fuori di acqua, lasciando un po' di acqua di cuocione. Aggiungere il pasto di pecorino e mixare bene. Il pecorino deve essere cremato, non strumento. Il pecorino deve essere cremato, non strumento. Il pecorino deve essere cremato. È molto bene!